Oh, eccoci qui, eccoci qui, benvenuti nel quinto episodio di Lords of the Fallen, ragazzuoli, bentornati di nuovo qua. All'ultima volta non è successo niente di granché, in realtà perché non ho fatto niente fuorché comprare magari l'arma avvelenata e mettere l'anellino che avevamo trovato e bisogna proseguire in quella che sembra essere una miniera, quindi andiamo subito, ci buttiamo anche in Umbra e vediamo dove ci porta l'episodio di oggi. Vediamo dove ci porta, vorrei vedere se funziona veramente la cosa del veleno che accumula anche il sanguinamento per fare qualcosa di broken, ma vediamo un attimo come prosegue. Diciamo che questi video li registro sempre quando ho dei momenti liberi, quindi... cos'era? Quindi perdonatemi se molte volte magari perdo il filo del discorso, sembro rincoglionito e compagnia, ma è semplicemente perché lo sono per la stanchezza. Avveleniamo l'arma, che bell'effetto, e vediamo... Qui bisognava stare per forza in Umbral. Madonna, aio, che cos'era? Ah, uno dei nanetti. Madonna, ma siamo diventati veramente forti o sono loro deboli? Che è successo? È il veleno? Ah no, è vero che eravamo arrivati qua altro che in miniera, amiche, ma l'ero totalmente dimenticato, perdonatemi. Diciamo che li registro con molta distanza tra un episodio e l'altro, quindi non mi ricordo assolutamente molte volte. Salve. Ah no, ok, siamo tornati, però sì, si avvelenano e tutto quanto, Perry, e invece... Il gioco ha detto di no. Devo tornare nel mood. Dovevo magari farmare delle brio pietre, però... Che ci frega, che ci frega. Allora, io volevo andare a destra, onestamente. Però andiamo a vedere anche a sinistra? Non lo so. Non lo so, perché a sinistra mi sa palesemente di entrata nella città e non mi posso distrarre un attimo. E se c'è l'entrata nella città, sicuramente è chiusa. Boni. Che mi devo ricordare anche come si gioca ogni volta. Sì, comunque entra il sanguinamento e il veleno insieme ed è una figata. Potremmo aver trovato qualcosa che veramente rompe il gioco. Ma lo sapete che vi dico? Dai, a sinistra sembra la via più semplice. Andiamo a destra. Tanto ci sarà tempo per esplorare tutto quanto. Eh sì, il veleno potenzia proprio in realtà anche l'arma davvero tanto. Ma non solo in ci metti il veleno sopra, ma fai anche molti più danni. Ma molti, molti più danni. La gola di Fitzroy. Rompiamo ste uova. Ma quindi la volta scorsa lei ci ha detto di uccidere qualcuno e l'altro di uccidere lei. Però non lo so, perché il fatto è che ci abbiamo provato a mennare le persone, ma non è che mi hanno dato qualcosa per capire. C'è un ricordo qua. Qualcuno che viene lanciato di sotto. Grazie. Dovrei riconoscerlo questo tizio. Cioè mi ricorda quello che abbiamo nel lab, ma non credo. Che tanto mi sono appena ricordato che effettivamente dovevo comprare le armature nuove per farvele vedere. Ma non l'ho fatto, perché non ho avuto tempo. Quindi sarà per la prossima, ragazzuoli. Tu esplodi, quindi stiamo attenti. Quello è un mimic? Sembra di no. E proprio così. De sotto. Non ha funzionato. No. Beccatevi stonda. Madonna che bella la magia, però. Che bella, Dio Cristo. È una figata. È una veramente figata. Certo, più andiamo avanti, più diventa il caos. E ci ha torpato tutto la signorina. Sali sacri. Buoni. Lì giù vedo un balestriere. E c'è anche un lupo esplosivo dietro. Quindi baffiamoci. Riprendiamoci un po' di mana. E si corre. E pure esplosive. Pure doppie. Eh sì, qua è il regno dei Rogar. È il regno dei Rogar qua. No. Madonna che bello. È volato giù. Però che belli che sono esteticamente. Che belli. E state calmi. È un attimo di calma. Non si può avere. C'è anche un maghetto. Dov'è? Frammenti di Deralium. Buoni. Qua dentro ci saranno altre di quelle bestiee sataniche volanti. Perché da quel che ho capito stanno appese sul tetto. Eh sì, guardale. Guardale. Maligne. Vedete che posso prendere? Aspetta. Togliamo il guardiano. Mettiamoci quella che abbiamo preso la volta scorsa. Il giavellotto di Latimer. Madonna. Madonna. Che figata. Mimic? No. Fighissimo. E quanti morti. Mamma mia che devasto di danni che facciamo. Certo si sta per accendere il signorino rosso. Ma dettagli. E c'è un balestriere dietro. Mi ha fatto malissimo. Tacci i suoi. Che male. Eh dobbiamo aumentare la difesa. L'ho capito. L'ho capito. Cazza rola dei danni. E stanno a cominciare a spawnarne anche tanti. Quindi diamoci un attimo una. Una svelta. Oh lì giù vedo una statua. Boni, boni, boni. Chissà il New Game Plus è senza le vestigia che cosa diventa. Perché veramente ti devi gestire bene le zone e se non hai semi i rischi di farti intere zone e di rimanere bloccato. Ok, tu sarai sicuramente appunto non in Umbral. Io ti faccio così. E poi un giavellotto. Mamma mia, quasi 500 danni. Chissà se posso caricarlo il giavellotto. Mi sa che ci abbiamo provato la scorsa volta. Ma non credo. E abbiamo anche le pietrusse quelle fighe. Lo mettiamo anche quelle fighe del mana. Posso accumulare le pietre diverse? Non lo so. Questi chi sono? Eh, no, questa è povera gente che è stata trucidata dai rogar. E basta. Mamma mia che bella sta roba. Non ce la farò mai. Oh. Oh. Però vedete una volta che entrate nel mood del combattimento quanto è facile tornarci. Anello della superiorità radiosa. Forse fa infliggere più facilmente lo smite. Lei quello è un mimic. Che bella sta cosa. In realtà si riconoscono molto facilmente. Zampa fortunata. Falena vestigiale. Ma lui non droppa niente. Ah, peccato. 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 Qui non c'è nessuno. Dove mi sono bagato su un cadavere. Spada di fix... Ah, ok. Mi sa che sono... I suoi signorini. Probabilmente. Guardala che bella. È una spada lunga. Una spada da un tempo impugnata dal cavaliere comandante Fitzroy di Manstead. Non mi sa che ha tradito. Quello che abbiamo visto lì mi sa che era proprio Fitzroy. Ha tradito. O qualcosa del genere. I soldati al servizio di Fitzroy rispettavano il cavaliere comandante e gli affidavano le proprie vite. No, questa è la solita roba che abbiamo sempre letto. Peccato. Cioè, o è in generale detto la spada di Fitzroy, inteso, ok, quella dei cavalieri, dei suoi tizi che lo seguivano, o ci ha impallato qualcuno. E qua dobbiamo andare per forza in Umbral. C'è qualche bella co... Mamma mia. Va bene, andiamo. Lì sopra c'è un annetto di quelli esplosivi, che in realtà sono pericolosi perché ti fanno cadere di sotto. Vediamo la distanza. Eh, fa proprio una palombella, giustamente. Ma in realtà lei c'è scritto 60 punti di mana, consuma, ma non è neanche così tanto. Ma aspettavo molto molto più greve il consumo, onestamente. Ma in realtà degli incantesimi. Vabbè, è anche vero che abbiamo una cuore di 22-22, o quanto era, eh. Effettivamente. Vediamo quanto ripristinano queste. Madonna. Allora, di là ci dovremmo ricollegare, mi sa, dal balestriere di qua. Ah, c'è il nostro signorino. Mi sa che di qua si va avanti. No, non è il nostro signorino, è un altro. È un John Snow Tarocco, tra l'altro delle sentinelle. No, è dei crociati oscuri quel simbolo, vero? Ok. Sì, ma la tua non è una lanterna come la mia. Credo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. No, non è la tua noi. No, non è il nostro signore. Grazie mille. Io, grazie mille. No, non è il nostro signorino. Grazie mille. eh ma tu hai del finto cora ah no no non è vero no non ce l'hai pensavo di averla vista lui pensa di avere una lanterna come la nostra ma non lo è allora fammi vedere un attimo di qua dove andiamo a parare ah no mi sa che ci ricolleghiamo alla stessa identica via in realtà tavoletta runica sono quelle di cosa no? sono quelle di Gerurda? o come si chiama io lo dico molte volte storpierò i nomi infatti anche quello che ha nominato lui non so se l'abbiamo già incontrato ma perché ho la veramente memoria di un pesce rosso quando succedono queste cose ragazzi quindi perdonatemi però tecnicamente dovremmo ricollegarci giù da qui lui è palesemente scappato in realtà comunque e per tornare in vita c'è un parassita c'è un parassita un sacco di signorini cattivi no mi spezzo le tibie mi faccio più male che bene se faccio quello che voglio fare quindi salve ci stavo per seguire ah c'è proprio così no devi mirare quello che hai davanti dio cristo quello che hai davanti madonna guardate vedete il loccone ogni tanto si va a infilare in delle robe dio cristo che fastidio è proprio fastidio perché si va a infilare dove non deve infilarsi di qua ci dovrebbe essere il balestriere orca che infarto ma ho capito ma calmi che succede calmi certo il rimbalzo sui muri secondo me in un gioco del genere non avrebbero dovuto metterlo però magari è una cosa che va soltanto con le armi e una mano borzello di munizioni lì c'è lo shortcut in caso moriamo pietruzza che male non fa ok ah lì c'era un drop non l'avevo visto ci si muove più velocemente schivando è incredibile come cosa guardate che è bello il mazzafrusso tutto verde allora io direi il sì il drop ah ho capito cioè non mi dire che non posso prenderlo ok deralium torniamocene un attimo via e poi ci buttiamo bisogna sempre ricaricarla quando si può la barra sempre di sotto c'è una matriarca c'è anche un sacco di cagnolini vediamo se posso no ho sbagliato proprio la mira però posso farlo adesso forse quelli davanti c'è proprio una sorta di piccolo cono forse l'hanno fatto per bilanciarlo ehi dove sei ti arrampichi questa spona le uova becca eh te stanni eh allora vediamo se è veramente a oe sta cosa però credo di sì madonna mi è un a oe pure questo ma che bello ci ha droppato tutto la signorina sai l'avvizzimento chissà se ci sta qualche incantamento proprio da mettere oh oh quelle di livello alto di deralium quello mi sa che è un mimic perché ho visto che si muove stranissimo no me lo sono immaginato in realtà però aspetta per non sapere ne legge e ne scrive no ok l'avevo immaginato teschio di vigore ok ma dove ce ne stiamo andando perché stiamo facendo tutta tutto il passo montano madonna lì c'è uno shortcut no mi sa proprio di zona extra in realtà e di qua c'è un ponte oh ok si raggiunge da lì va bene ponte i ponti non sono mai una cosa buona perché significano boss la maggior parte delle volte di qua niente togli tutta sta roba chi era e vabbè ho capito pure meno madonna ogni volta dai andiamo e anche dei droppini che bello madonna devastature eeeh un rogar così becca oh meno male che sei alto e non mi hai preso madonna che belli dio cristo i rogar però questo ti fa qualcosa sì ma non troppo ah te stanni anche tu eh oh ahia mi ha dato fuoco giustamente lascia dietro una scia e quello madonna madonna che bello però tu sei un altro minion credo ahia mi hai preso ho fatto l'affrontare un'arena così piccola ma quello no in realtà credo sia un tuo buff sì mi sa che è un tuo buff oh ui che ogni tanto esplode ui ok mi sa ah sì che lo stava sorta curando ecco me e bono madonna sto con un peto di vita becca madonna stivail devastatore semi vestigiale scudo devastatore sì questo sarà un altro gran minion che incontreremo in giro no 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 metto il checkpoint ciao ok e per andare a fare quel passo dobbiamo aprire qua però è stata queste parti forse alla fine del ponte e tanto qua cambierà tipo sicuramente un botto se togli l'umbral perché alla fine questo è un passaggio di montagna madonna ma stiamo in realtà scendendo piano piano dovrei guardare un attimo la mappa dove eccolo qua andiamo un attimo a checkpoint perché devo capire perché noi effettivamente abbiamo una mappa della regione quindi possiamo anche un attimo capire dove ci stiamo andando ad infilare quindi fammi vedere noi dovremmo avere il diario no ok ah ci sta proprio la cosa no è a destra per Carrath abbiamo passato il ponte il ponte ci porterà da una parte e a sinistra invece non si sa che cosa c'è invece qui dalla porta con la campana possiamo andare ah in quella zona che abbiamo visto dove ci stanno i maghetti da lì c'è una sorta di santuario e dal santuario possiamo salire verso l'alto però questa è la mappa noi abbiamo visitato tecnicamente in basso a sinistra no c'è un punto che mi fa capire dove si trova no il ponte quello grande mi sa si ci sta anche il corpo è quello al centro cioè noi adesso dalla foresta in basso a sinistra siamo entrati in un buco per poi sbucare dove cioè siamo saliti credo di sì perché noi abbiamo visto che il faro più vicino è quella torre particolare là quindi credo che noi poi siamo saliti quindi il ponte che abbiamo attraversato che stiamo attraversando è quello in alto rotto non lo so perché non vedo delle cose che mi si ricollegano bene vabbè andiamo nello shortcut non era qui c'è lo shortcut nel nell'extra in realtà vedendolo eccolo qua baffiamoci salve signor maghetto mamma mia tacci tua io spero di non aver fatto una cazzata nel lasciare il faro acceso la volta scorsa ma lo scopriremo probabilmente buoni che bello com'è spawnato che figo ok qua c'è un'altra delle signorine una spina dorsale no andiamo dal maghetto prima perché poi vedete quando si comporta bene il lock è una figata perché voi potete cambiare bersaglio mid combo ed è una figata assurda perché magari stannate uno quindi passate all'altro poi tornate al primo potete fare queste cose che sono molto fighe però ogni tanto vi mira proprio roba a cazzo altri signorini che vanno verso chissà dove a sto giro comunque si siamo proprio lì c'è una cosa per tornare in vita ma mi sa che stiamo andando in qualche posto importante per i rogar perché lì giù vedo un esercito dirò ah no ok sono delle sono dei signorini minchia non ci avevo fatto caso allora qua ci dovrebbe essere lo shortcut c'è anche un droppino buono questa è tutta roba per il potenziamento madonna ma vedete che mood totalmente differente siamo andando ah ok ho capito dove stiamo andando il gigantesco ponte con la città sopra fa vedere c'è da qualche parte no noi siamo probabilmente in basso a destra forse perché è l'unico ponte che ho sopra delle case che io vedo lì è un'altra zona quello è il ponte quello proprio grande lì c'è la torre con il faro sopra a meno che non sia una di quelle solite mappe fatte più per essere belline da vedere che aiuto per capire dove si trova dove ci si trova torniamo in umbral non si molla mai niente c'ha il pettino becca ah c'è proprio un tenefregato niente dell'esplosione sui denti giusto così madonna mia che palle sta cosa che continuano ad aggiungerti la roba alla barra che palle un santuario di adir e c'è anche un mietitore non ci incontriamo da tanto noi tieni madonna ho affrontato il tuo paparino quello più potente non ho paura di voi non più dopo che affrontate il mietitore rosso come si chiama questi fanno non fanno più paura se mi vesti giallo è buono tanto ci abbiamo di nuovo 20.000 di vigore eh sì un santuario di adir che tra l'altro hanno sconsacrato uno delle sentinelle perché sono quelli con le campane in testa e ci sono messi loro fighissimo c'è un balestriere me lo vuoi mirare gioco grazie becca becca 2 madonna che figata sta roba consuma un po' per carità però perry madonna che culo vedete senza buff sulla mazzetta quanto meno facciamo e quanto sangue c'è siamo entrando a casa di adir quindi stronzo pure io effettivamente a meno che non sia il luogo della covenant perché può essere c'è un'anima a destra di chi non si sa ehi eh lo sapevo guarda mi c'ero scommesso veramente tutti i miei soldi ero diventato un milionario guarda che bello con tutti i simboli di adir ovunque addirittura una vestigia vabbè perché se vuoi tornare in fretta e li ha elayard il tradito ok madonna ah no aspetta tanto qua non credo che ci sia roba da fare con l'umbra quindi riposiamoci che magari arriva anche la signorina con i tacchetti madonna madonna e giustamente tutte le mani arma infernale addirittura eccola laggiù la nostra signorina sapevo che sarebbe spawnata qua madonna madonna tu sei vivo usa le mani mozzate per acquistare oggetti al santuario di adir si questa è la roba della covenant loro coagulatore del massacratore oh oh guanti da cavaliere di adirittura che bella sta roba in realtà esteticamente non la prenderemo mai eh si guarda come hanno sconsacrato tutto hanno messo i loro simboli le mani un oggettino vabbè il dito carbonizzato oh si è tolto il cappuccio fatti vedere no non mi guardare in faccia fatti vedere c'ha delle corna no ecco ha un elmo particolare madonna che bella va bene va bene grazie a tutti va bene però io ripeto chi doveva uccidere da portarti cioè la scorsa volta abbiamo provato a parlare ad attaccare gente a caso ma non è che c'era molto da fare quindi si vede che l'ha fatto lei da sola però che ti devo dire signorina non credo lo faremo eh torniamo indietro se trasportiamoci sul ponte diciamo che lords of the fallen con la gestione delle quest non è che è sempre stato così chiaro vabbè che nell'originale era veramente basic basic vogliamo rimanere un po' tranquilli madonna intanto stiamo andando in una terra che è stata devastata dai rogar perché è tutto in fiamme e mi sa che siamo diretti tipo laggiù ah è laggiù vedo la neve ok è quella la zona con i ghiacci dove siamo diretti che intanto mi sa che stiamo facendo tipo il giro attorno alla montagna per poi entrare dietro forse non lo so però vediamo un attimo siamo un attimo fuori da umbral anche se quella torre eh sì ci stiamo andando a infilare in mezzo a un campo di battaglia c'è un mietitore bene così oh eh qua quante trappole becca becca due così te impari c'è un cane qua dietro no comunque ci stanno certi attacchi che proprio non gliene frega niente c'è hanno hyper armor secca 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 di qua c'è qualche trappola satanica beh questo mi sembrava un drop no sentite torniamo in umbral lo so che ho detto che volevo rimanere fuori però è troppo bello l'umbra ti fa vedere talmente tante robe interessanti minchia qua che puttanaio se stavamo normali eeeh buono perché in realtà vorrei passare per la torre perché c'è qualcosa di interessante là sopra questo è un mimic c'è anche un mietitore così a gratis a cuccia mi hai raggiunto roba che non volevo a caso zampa incantata oh la vesta del mietitore perché mi metti una statua di umbral c'è un altro boss qua dietro perché vedo effettivamente roba che si sta a converge lì però spero di no onestamente cosa fa questa ah è la zampa del coniglio scheletrico che è vero che aumenta notevolmente il tasso di scoperta sebbene esista qualcuno a dare il giuramento va bene le descrizioni proprio hanno detto facciamole uguali che ce frega a noi eh sì eh sì eh vai no ragazzi non è per niente una stanza di un boss cosa ve lo fa credere baffiamoci aia vorrei provare a fare qualcosa di ah non posso è vero vabbè andiamo chi sei? il mio editore di ma ancora tu ma scusa ma che sei che ogni tanto torni a rompere i maroni ma me sa davvero ma ho capito ma pure meno no vabbè ho capito devo morire qua di nuovo i che fastidio scendi dai oi becca ci proviamo oi oh maledetto quella è una presa aia eh oh buono eh che te spacca la testa spacca la testa niente gli stiamo a fa' un pedo di danno gli stiamo a fa' buono ui ne fai sicuramente un altro sanguinamento non lo soffre purtroppo aia mi ha preso con l'ultimo è entrato il sanguinamento eh è pure a me fra un po' se non sto attento tacci mia ma si è curato con i danni oh che è sei pure buffato bene no dai è tornato su quel drago maledetto vero dove oh madonna che palle scendi su ah l'ultimo è è a rallenti poco avvizzimento subisci dio oh oh eeeh va bene se rimani imparato all'immezzo sono cazzi amari capito ti puoi stannare con questo no no eh 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 boni ah son morto madonna greve 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 però madonna veramente greve in ambito danni ma sicuramente adesso non risponde perché questo è fatto ogni tanto per farti sentire la presenza e basta figo mi aspettavo di fargli molto molto più male onestamente andiamoci a riprendere i nostri 21k 22k mi aspettavo di fargli molto molto più male invece duretto più che altro penso sia tipo l'antime perché l'avvizzimento non gli fa assolutamente niente boni tutti boni eh va bene quanto tracking dio cristo eh si non rispona perché è fatto proprio per farti sentire che ogni tanto io tornerò i always come back davvero beccate eh il veleno giustamente infligge sanguinamento quindi i miei incantesimi di veleno fanno anche sanguinamento figo molto molto figo sì però però dio cristo qua è morto qualcuno con uno spadone gigante però di là andiamo avanti ah no mi sa che la torre era uno shortcut per evitarsi sta roba ce l'hanno messa per chi magari fa le no death hanno detto guardate non facciamo propriamente gli stronzi perché questi cioè finché sono sti scontri veramente questi sono fatti proprio per farti perdere cioè o sai che qui c'è lui e conosci magari il suo counter perché probabilmente sicuramente lui è debole arradioso quindi ci vieni con uno smite o qualcosa del genere gli fai molto molto più danno perché ho visto che il veleno non gli è entrato per niente il sanguinamento forse ma potrei stare dinagazzata perché credo che anche lui abbia una sorta di lanterna come la nostra nel petto è quello che sto notando lui è una sorta di lanterna umbral russa credo buono però vedete pure questa cosa se io faccio un perry alla prima mossa di una combo cioè premiami cioè io capisco magari non il boss ma un nemico che fa sti uno due così veloci dardi ponderati cioè dammela la soddisfazione di bloccargli l'animazione perché io ho fatto un perry sicuro eh c'è quello lì e lo sapevo becca fai un passo di qua o ti posso prendere anche la dietro eh non la dietro non ti posso prendere tieni eee c'è anche le botte di mortaio addirittura è morto è morto lì tra l'altro c'è un drop figo a destra però mi sa che possiamo salire anche su per la torre allora di qua possiamo scendere diretti ma tanto c'è il passaggio sotto oh lì c'era un salto da fare madonna che culo granata di olio di serpente lì ci si può entrare soltanto non in umbral ok però lui ci passa dentro perché giustamente è nella vita vera spero ci sia una statuetta qua da qualche parte un altro mi titolo vi siete divertiti in sta zona con i miei titoli vedo vedo che vi siete divertiti becca prendiamo il droppino uh antulio incappucciato un altro un altro tanto dovrei spendere lì ste 25k però mi piace il rischio mi dà un motivo per non morire l'altro fuori da umbral è ancora più bello il buff sull'arma ancora più bello oh stronzo purio che non è due addirittura teschio del vigore maron ecco un po' meno tutto tutto tutti gli shader non caricati e ci stiamo andando infilare in quella città in fiamme eh città mi sei invasa dai rogar a sto punto qua sopra si sale ancora sotto c'è un drop sì dove moriremo probabilmente nel provare a prenderlo a breve sopra sopra c'è una cassa e un ricordo umbral attenzione ilmo e armatura di Fitzroy oh 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 e quindi tu sei Fitzroy mi sa no quella era proprio la sua spada invece no mi sa che era della fanteria sua eh ma tu stavi combattendo sentinelle no ok no perché stava contro delle sentinelle giustamente lui crociato scuro visto male dalle sentinelle forse magari aveva scoperto qualcosa e non volevano che lo reportasse può essere vediamo di non morire come degli stronzi madonna perfetti le ascia dello scorticatore eh io pure scendo dalla parte proprio quella sbagliata eh allora scendiamo ancora più giù visto che si può e ci ricolleghiamo mi pare sì eh esatto quello è il tizio che abbiamo visto da di là minchia quanti cani ho sbagliato incantesimo però se erano troppo avvicinati ecco qua adesso rimbalza tutto adesso rimbalza tutta la fine sali sali facciamo le termopili dio cristo no ho sbagliato di nuovo incantesimo va bene ha funzionato lo stesso non so manco io come sì ho ho capito che non hai io questa è una cosa raga che a me mi dà un fastidio ma anche nei souls che quando non hai che ne so lo slot incantesimo non hai il mana stanno un'ora a grattarsi la testa a fare che cazzo sta succede ho capito che non c'è il mana ma non mi punire così in quel modo cioè nel senso fammi uno sfriccichino una che ne so un'interferenza sulla campana per farmelo capire e lì c'è un altro uovo bastardo ma non quello hai l'uovo io sono morto io sono morto sono stottento mi hanno rimesso di nuovo nell'inventario la merda che palle qua pericoloso eccome buono buono buonissimo c'è pure quell'altro che sta a sparare frecce no guardalo guardalo che è pure veramente i mortagli io scherzavo prima c'è anche un mietitore ma sì ma tanto che ce frega ah ho capito questa è una di quelle zone che in umbral deve essere il cancro maligno da fare vero eh sì eh sì non è morto aveva un pixel di vita eh sì questa è un'altra di quelle zone ragazzuoli è un'altra di quelle zone che prima devi eliminare tutta la merda perché giustamente è un cimitero credo devi eliminare tutta la merda fuori dall'umbral e poi dentro umbral madonna però la cattiveria cioè quando fanno così è veramente cattiveria perché diventa boh il caos di robettina che ti salta addosso da ovunque da ovunque allora puliti perché sennò ci aggriamo mezzo mondo le le due sì sì schiva ce n'ho dei materiali tranquillissimi che ce n'ho dei materiali accuccia pure tu oh minchia mi hai missato per culo proprio ok lì bisogna prima eliminare la merda off umbral tanto qua c'è un'altra volta una di queste prendi prendi che queste ah è quello di prima ok non despawnano ma non è che mi ha ucciso qualcuno che era tipo più duro proprio per quel motivo lì facciamoci furbi ho sbagliato peccato che non posso decastarlo cioè non posso smettere il casting se mi accorgo che è troppo tardi vabbè avrebbe reso gli incantatori ancora più forti effettivamente però allora tu hai il fregnetto di umbral quindi stiamo attenti dov'è oh quanto ci vuole per rompersi eh piazza anche delle mine piazza anche delle mine e l'avevi rubato tu il mio vigore oh palestra da bra palestra balestra da braccatore il signorino è di là quindi mi stai dicendo che di qua è un uh c'è un altro di quei cavalieri oh dio ma quindi in quell'arena ci sta sia un uovo che un cavaliere se sei in umbral eh è giustamente in cimitero ragazzi eh sei morti se vogliono mangiare tutto quale posto migliore del cimitero quale posto migliore è stato ucciso da uno di queste signore o signorini che tra l'altro sono delle sentinelle vediamo di prenderli tutti quanti sì ma tanto ormai sti incantesi però infligge tipo con una facilità veleno che è bellissimo eh ma usate roba di via dire siete sentinelle che se so convertite perché la campana significa quella roba lì anche oh perché questo è un cimitero di sentinelle ci stanno i loro simboli ovunque ovunque eh quanti incantatori non ti raggiungo eh è fatto troppo tardi bello che se lo fate in versione umana sto luogo è la pace dei sensi io ho paura di alzare la lanterna ah no è stato ucciso mi sa da un mietitore sì però prima di andare in umbral mi dispiace devo un attimo sistemare il cavaliere infernale lì sopra se voglio farmi poi l'uovo perché affrontarmi quei due insieme è un parto ragazzi quindi baffiamoci dove eccolo lì devi mirare il tizio che c'hai davanti però dio cristo dai no non lo mira raga è inutile che ci provo finché non ce l'ho davanti non lo mira va bene pure questo gli attacchi lenti animazione fatta per fregarti no no non si stanna non si stanna questo gli puoi tirare dietro quello che cazzo che vuoi lui dice io non mi stanno e io faccio così attena fanculo torniamocene un attimo giù così andiamo a fare il mietitore nel mentre l'uovo ok ah ma tu mi segui proprio fino alla fine dei miei giorni spero di no lord cur curlos o kurtolos si è kurtolos oh madonna quanto quanto gli danno extra quanta vita extra gli danno ma un boato certo per solo porta lanterna vendicato per solo tre occhi strappati cioè per carità figo eh però magari una ricompensa un pelino più grande non è che la schifo si tu devi scendere però bravo no fai tutto tu da solo bravo oh ah no è la sua mossa tipo da layer mettiamola così ah ecco che cos'era che non vedevo tieni 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 ce l'ho gli incantesimi sono un incantatore no sono un incantatore merda soka il ghiaccio ci di mezza la stamina teschio il vigore chissà se questo rispauna perché se rispauna oh un potenziamento per il sangue si rispauna tanta roba utile per farmare attorno qualcosa di interessante no solo il power cioè solo questo comunque è un altro più uno alle estus tanto questa la posso leggerla adesso le notevole capacità da guerriere di pieta erano eguagliate alle sue abilità di guerritrice ma quando la guerra delle sentine consagrate contro i rogar divenne sempre più disperata e selvaggia lei si ritrovò a usare più spesso le prime che le seconde ah va bene ok ecco perché le usa lei effettivamente è una roba che proviene da lei c'erano come se fossero state che ne so per farne esempio molto molto sbagliato le sacchette di sangue c'erano magari quelle robe che davano a dei chierici a dei chierici minori dei curatori minori per farglielo usare per curare le persone ok cioè ci sta come cosa perché giustamente lei non è che poteva stare in ogni punto del campo di battaglia e vaffanculo che infarto ma voi siete scemi c'è un altro balestriere oh sì comunque è cattiveria madonna mia è cattiveria cioè vedete questa qua è proprio dark souls 2 dio cristo e tu non puoi stare un attimo un attimo che tu dici vabbè mi metto a chiacchierare no 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 dietro a ogni angolo c'è l'inculata è qualcosa di incredibile io non so come spiegarlo è qualcosa di incredibile ma proprio ogni angolo ve lo giuro quanto mi ricorda dark souls 2 nel posizionamento dei nemici cioè loro già li capisco perché loro sono fatti per fregarti però è tutto il gioco che è così ho sbagliato incantesimo non ci arriverà mai laggiù appunto e adesso mirerà giustamente quelli che non deve mirare ok becca no ecco quando fanno quell'attacco lì non non puoi bloccarli cioè quell'attacco caricato lì c'ha l'hyper armor madonna raga veramente comunque ve lo giuro per adesso non dico che è la cosa che mi dà più fastidio uno dei problemi però alla lunga può diventare stressante come cosa tu chi sei alla lunga può diventare stressante il fatto che tu devi sempre stare attento a ogni cosa che te spawnano 27 stronzetti in umbra le compagnie becchiamo l'amichetto ah sei stato ucciso da lui killer e vieni qua anzi voglio fare una cosa figa se ci riesco dai ah peccato c'era quasi riuscito a togliergli tutta l'anima ma in realtà io voglio andarmela a rischiare contro de quello eh ormai l'ho aggrado buono l'ultima biedruzza ah ok se stai troppo vicino devi stare comunque attento oh niente io ho capito che vi fate partire l'animazione dio cristo stronzo pur io che ci continua ad andare poi magari se stai con uno spadone puoi comunque fargliela come cosa ma anzi tipo sicuro e se mi state vedendo che non sto correndo ragazzoli questo è perché questo gioco ha una linea di aggro infinita la roba vi segue fino alla fine del mondo tanto qua c'era un checkpoint point eeeh boni sentite tu morirei di veleno tu e attenzione schiva addirittura quanti drop sono tutti bastoni no sono mucchi di pietra del mana buone così non le devo ricomprare allora più tanto non li puoi neanche vedere scusa ma dove stanno dai esci da lì no prendi tu e i tuoi cani di merda ce n'era anche un altro ma ma dai ma scusate ma è spawnato credo credo sia spawnato ma ha fatto stranissimo perché l'ho visto tipo poppare no tu accucci via e quanti maghetti dato ci dovrebbe essere anche la matriarca qua da qualche parte attenzione ci prova ci prova a tirare un cazzotto si sente fortissimissimo abbiamo 30.000 di vigore sarà il caso di spenderlo probabilmente si resistete so che state in pena nel vedere quella roba sempre a rischio andiamoci un attimo di qua perché di qua ci dovrebbe essere la signorina appunto bello che ci puoi schivare proprio in mezzo oh salve lei un teschio di vigore va bene che d'altro alla fine mi sa che noi utilizziamo delle robe tipo simili ragazzi cioè questa roba qui è una aiuola seccata e morta dove lei fa crescere le uova mentre noi usiamo ancora quelle vive per metterci il nostro piccolo respawn allora c'è qualcun altro sicuro dietro l'angolo che mi si vuole inchiappettare ecco appunto la mia pazienza dice madonna vi hanno potenziato a quanto pare vedo o anche quello di prima era così duro no vieni qua questi penso che siano i nemici per me più ostici fino adesso ma non tanto perché sono complessi perché una volta che li capisci ci scrivi in mezzo ma è che hanno una quantità di hyperarmor in ogni cosa che fanno che è incredibile ruotano per due ore sparano 18 chiodi che ti fanno prendere fuoco e che i chiodi ti fanno già un bordello di danno poi se prendi fuoco prendi altro danno mettono le bombe esplosive si baffano come lo schifo saranno anche il soldatino base dei rogar però dio cristo bacche acerbe bello come escono dalle tombe che figa sta cosa però sembra che si che escono dalle tombe ma che non se ne possono andare proprio grazie alle tombe cioè la cosa che li lega lì che li tiene fermi è la tomba stessa allora immagino che dovremmo entrare da dove è uscito il guerriero del cavolo lì quindi di qua ci sta qualche extra c'è qualche cane di merda si ci sei tu ma ci sta anche qualcuno là ormai vi ho capito brutti stronzi guarda lì che escono dalle cripte bisogna anche stare attenti alle esplosioni desti stronzi perché fanno malissimo e qua vi siete divertiti vedo con i droppini l'anello del fuoco della notte madonna madonna eh siamo arrivati mi sa sotto a quella città particolare marò ma che bello c'è mi dispiace per i signorini allora tu spawnerai tipo sicuro invece no c'è qualche droppino interessante qua in mezzo no madonna martello del tassidermista quante mani eh si mi sa che qua i rogar hanno fatto festa calrat calrat bassa no effettivamente di qua calrat forse di là è un passaggio uno shortcut per calrat o da dove usciremo una volta che abbiamo fatto sta via può essere madonna bello il contrasto con il blu eh qua vi capisco se siete in tanti vi capisco oh questo è il signorino dell'inizio è quello che ci ha donato croce di legno del crociato scuro è quello che ci ha donato la lanterna figo e chissà in mano a chi l'hai messa zio io te lo dico chissà in mano a chi l'hai messa madonna madonna comunque si può dire di tutto a the lords of the fallen però è proprio bello stilisticamente tanta tanta roba diciamo che all'eyes of insieme all'eyes of p è uno dei souls like di quest'anno che mi viene proprio da dire ok e voi siete diversi è un vero souls like eh solitamente si tende ad utilizzare quel nomignolo quel tag quella nomenclatura un po' troppo a cazzo però questo mi viene proprio da chiamarcelo non è un mimic questo eh sì questi sono tipo gente in fiamme sono quelli versioni in fiamme e ho paura del male che possono fare conoscendo sto gioco ci siamo per trasformare madonna madonna vestigie di sebastian ok però facciamo una cosa torniamoci un attimo al sonno celeste perché abbiamo tanta tanta roba da vedere da comprare da leggere da fare cioè vorrei spezzare il mood quante volte meno posso ragazzuoli però ci abbiamo tanta roba che abbiamo preso tanta 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 innanzitutto tu potenziamo ah no adesso ne richiede due un cazzo invece e non aumenterà le cariche ma solo il recupero ok l'han fatto per non permettere l'abuso della cura tu signorino e vabbè lui giustamente inquisitore della madonna oh ma qua vedrò betta nuova dov'era taglio radioso usando la tua arma emetti un'onda nociva di magia radiosa figo pendente dell'impire in un pendente arrugginito e macchia di sangue con una croce da sentinela consacrata aumenta i danni sacri e la difesa dal fuoco poi vai fatto proprio per combattere i rogar a te non te la posso dare quella roba? no no mi sa che quello è proprio un ricordo da dover prendere da mollo è proprio una roba di mollo ok lui si è trasferito qua finalmente ok e vendi in realtà roba molto molto figa cioè vendi tutte le robettine per potersi baffare l'arma con roba interessante ok tu va bene comunque si mi sa che è stato lui a uccidere quella persona perché quello spallace quel pellicciotto forse anche la voce andiamo a dare la tavoletta alla signorina perché mi sa che ci sblocca le rune esatto tavoletta l'unica rotta aia comunque mi sono sbagliato dovevo leggerla quella cazzo di tavoletta lo faremo con la prossima ciao Ok magari è qualcosa di ricollegato al primo Che non mi ricordo Va bene Eh si adesso abbiamo le rune Che tra l'altro hanno delle forme uniche Ma le vendi tu delle rune? Sì Velox aumenta i valori derivati All'attributo agilità Se lo metti sullo scudo invece Aumenta leggermente l'attributo agilità Madonna Ai tempi in cui la corrosione rogar era ancora così tirata Una minaccia dalle sentinelle consacrate Ogni sentinella infetta veniva trattata allo stesso modo Che si trattasse di un mila confesso o una stimata badessa Eh mi sa che veniva ucciso male I sostenitori della madre putrida Celebrano tra le sue virtù il fatto che riceva tutti nella sua grazia La sua accoglienza non è incostante A differenza di molte altre idee Vabbè perché giustamente Se la vediamo un po' come la morte Come con lei che mangia tutto quello che muore Tutto quello che va dall'altra parte Non è che si rifiuta È tutta pappa reale per lei Eh chissà se le cominceremo anche a droppare Perché il fatto che aumentare Cioè dipende di quanto Io ce la metterò probabilmente Perché vabbè Dici Piuttosto che lasciarla vuota Ok Però Andiamo dall'altra parte Perché se quello è un ricordo Vuol dire che possiamo comprare la sua roba E se posso comprare la sua armatura Figata perché è veramente bella Ciao mollu Allora fammi vedere l'occhio che abbiamo Trovato Link ha appucciato Immunità ai danni per 8 secondi Quando passi a Umbral Ma ho capito ma è sgravato Cioè ci rende invulnerabili a tutto Però Dov'è È sicuramente tra gli oggetti chiave No eccolo qua Ah non hanno delle descrizioni gli occhi Peccato Vendi qualcosa di nuovo No Offri ricordo No invece Scusate Noi non abbiamo preso È questo Croce di legno del crociato oscuro Ah non è che è un ricordo È una croce Il giorno in cui Isaac venne nominato paladino Fu il più bello della sua vita E giurò solo l'elemente a Orius Che avrebbe portato a termine Qualsiasi sacro compito Gli fosse stato assegnato Con purezza, obbedienza e determinazione Ah ok Un pezzo di pelle strappato a Sam Un ex crociato oscuro Giustizia Dovrà essere venuto o meno al suo dovere Fratello del paladino Isaac Ma scusate ma questa roba posso È un oggetto di missione Non è che posso aprirci Prima di chiudere l'episodio Andiamo a fare un test Perché non vorrei che possiamo aprirci Quella portona Dove abbiamo trovato la pelle All'inizio proprio della serie Vabbè Allora niente Io pensavo ti potessi offrire qualcosa Amichetto E non ti posso offrire niente Pensavo in generale fosse molto più lungo Questa cosa qui Invece niente Fammi giusto dare una spizzata A della roba che abbiamo trovato Questa forse è nuova La sofferenza di alcuni penitenti È aggravata dall'essere affletti Dalla malattia di Rogar Le loro menti distrutte E tormentate dalla consapevolezza Che a prescindere dalla loro penitenza Non saranno mai più benvenute Nella braccia di vino della chierica Eh la madonna Qua abbiamo trovato qualcosa di interessante Martello del tassidermista Oddio è fatta con delle persone Dio Cristo che ansia È fatta di teste Un magro bommartello Creato con ossa e carni umane Va su inferno e forza Mentre i cittadini Fuggivano da Calarat Bassa Uno di loro Un tassidermista Fu scoperto in possesso Di un grotesco martello Fatto di parte di corpi umani Ignorando ciò che egli sosteneva E ciò che il lavoro Era stato commissionato Da un nobile di Mondstadt Ah e cioè Perdonatemi I suoi concittadini Lo accusarono di essere Un collaborazionista dei Rogar L'uccisero all'istante Eh invece no Mi sa che era proprio Il nobile di merda Ah questo è differente Del bastone con la campana Forse quei pellegrini Infettati dalla corruzione Rogar Non si sarebbero mai Recati a Mondstadt Se avessero saputo Quale terribile destino Li attendeva O forse non avrebbe fatto Alcuna differenza Perché tale è il potere della fede Vero anche questo Scudo di un devastatore Costituito principalmente Ad ossa spessa E incredibilmente solide I devastatori sono L'impetuoso martello Delle forze di Adir Secondo i Secondi in termini di forza Anzi di potenza fisica Solo ai giganti i Rogar Madonna Tuttavia diversa Di quegli ottusi bestioni I devastatori possiedono Un'intelligenza crudele E grandi abilità in battaglia Balessa di un braccatore Come gli altri Rogar Privi di vista I braccatori Compensano la loro cecità Con una percezione Extrasensoriale naturale Spaventosamente acuta Che li rende guerrieri Ancora più letali E dalla quale Pare che nessuna preda Possa nascondersi Ok infatti stavo dicendo Come cazzo mi vedono Me l'hanno appena spiegato Questa anche fa veleno Una peschetta avvolta Nella pelle di serpente Infligge danni fisici Accumulo di veleno E riduce la resistenza Ai danni fisici Però vedete con questo anello Noi trasformiamo Quel 90 di veleno Anche il 90 di sanguinamento Cioè se fa un puzzone Sla per terra Quello pure fa sanguinamento Non è da sottovalutare Dardi da balestra pesante Ma potenti Infliggono danni fisici Notevoli Ok Hansworth fu responsabile Di una serie di progressi Nella progettazione E nell'efficacia Sia delle balestre Che delle loro munizioni La fragilità fisica Di cui soffrì Per tutta la vita Non ostacolò I suoi successi E la sua abilità Bello giustamente Era magari un po' più Aveva meno costituzione Mettiamola così Però tirava delle madonne Elmo di Fitzroy Soldato eccezionale Abilità Determinazione Lealtà Fitzroy Ha scalato i ranghi Del suo esercito Guadagnandosi alla fine La massima carica Di cavaliere comandante Un incarico che Per un certo periodo È stato per lui Più importante Di ogni altra cosa Stivali da devastatore Stivali apparentemente Ispirati a gambe E piedi di un devastatore Sorprendentemente comodi Sempre appresa per il culo Ste cose Va bene Io direi di fare Dei livellini Anzi prima di fare Dei livellini Sciogliamoci un po' Di robettina Cioè tutti questi Che comunque Sono vigore Allora vediamo Con 40.000 Anzi 41.000 Quanti livelli Possiamo fare Possiamo farne 6 Quindi io direi 3 E 3 Ve lo dico Il cap sarà 30 Più avanti Diventerà 40 Però Tempo al tempo C'è qualcosa Di nuovo Che si può sapere Visto che adesso Abbiamo 25 25 Molte sentinele consagrate Insanguinete Terrorizzate Hanno alzato lo sguardo Verso il volto Di un rettore Cremisi Che torreggiava su di loro Sperando di scorgervi Una qualche traccia di clemenza Ma non hanno trovato Altro che un'impassibile Maschera di metallo Che li fissava Vabbè sono quelli Con il mascherone Appuntito Però vedete Ecco io quando Magari adesso Livello E posso accedere A delle descrizioni Fammele apparire Dio Cristo Perché se no Io poi Ho 18 miliardi Di armi Che è un casino Le campane E i loro rintocchi Sono stati a lungo Associati ai raimi Principali del culto Di Orius Compresa le sentinele Consagrate Anche se come Per altri aspetti Della regione Le sentinele Hanno portato All'estremo L'assimilazione Di questo concetto A lungo Le sentinele Consagrate Hanno saputo Scorgere velocemente Il peccato Attorno a loro Ma sono state Incapaci Di vedere La corruzione Che cresceva Al loro interno Anche quando La fonte Di quella corruzione Era proprio Ciò Cui Avebbero Tutto Combattere Sebbene i trafiggi Peccati Possiedano la forza Di volontà Necessaria Per mantenere Il voto Di silenzio Fatto per rafforzare Il loro legame Con la chierica Essi scelgono Di dimostrare Ulteriormente La loro dedizione Cucendosi la bocca Non ci avevo Fatto caso Aia Fortunatamente mi ricordo Quando non abbiamo Letto qualcosa L'arma standard Da lampura in origine Una spada Ma col passato Del tempo I cavaliere Adottarono uno stile Di combattimento Più aggressivo E brutale La spada Venne rimpiazzata Da una mazza Anche se continuavano A farsi chiamare La ama io Fino adesso ragazzi Ho letto sempre male Non so il mio cervello cavo Io leggevo L'am pura E l'ama pura Dio Cristo Sono un rincoglionito Ormai da molti anni Quasi tutti i pellicrini Che hanno superato Le prove necessarie Sono stati accolti Dalle sentinelle consacrate Non hanno mai visto La chierica di persona Anche se gli orrori subiti E perpetrati In suo nome Sono continuati Senza sosta Ascia dello scorticatore Oh è fatta con una faccia umana Dio Cristo Realizzata anche Che un pelle umana Per quanto i rogar Non diano alcun valore Alla vita umana Apprezzano la pelle umana Di buona qualità E quando possibile La prelevano con cura Anche se nessuno Sembra sapere Quando o perché Sia nata questa terribile pratica È perché siamo bestie Probabilmente per loro Siamo semplicemente bestie Un tempo alcuni Credevano che la colossale Mano di Adir Fosse la vera mano del dio Con il resto del corpo Sepolto al di sotto di essa Ma in realtà La formazione si è manifestata Molto tempo Dopo l'esilio di Adir Un simbolo della sua rabbia feroce Abbastanza potente Da attraversare le dimensioni Ah ok Questa è una piccola spiegazione Di quel manone lì Le sorelle flagellate Si impegnano a versare E poi bere regolarmente Il proprio sangue Convinte che solo Esponendo la luce divina Della chierica Prima di riaverlo in corpo Esso possa essere Santificato adeguatamente È un rituale senza fine Immaginavo Però meno male Abbiamo sbloccato Tutte le varie robettine Mi sa che questo sia nuovo Nella storia dell'umanità Sono esistite Tante religioni diverse Legate a Orius E per quanto fossero diverse Per credenze e riti La maggior parte di esse Credeva che Orius Fosse la fonte benevole E onnipotente Di tutta la luce E la vita nel mondo Questo forse è nuovo La donna che indossò per ultima Questo oggetto Lo aveva ricevuto Dal nonno Che sosteneva Fosse un amuleto In grado di prevedere Il pericolo E di allantanare Da esso Chi lo indossava Un'affermazione Che si rivelò Falsa Quando la donna E la sua famiglia Furono massacrate Dai rogar Bene Felicità Qua vedo Come al solito Per quanto potenti I numerosi rogar Non sono immortali Anche se il dolore E le ferite Infette 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 Non intaccano Il fervore Con cui combattono Per il loro creatore Ok Questo è uguale Peccato però Cioè capisco Perché l'han fatto L'han fatto Perché praticamente Se no tu ti Magari Usi qualche oggetto E te perdi Tutta la lore Però Potevano metterne Un po' di più Qua c'è qualcosa Di interessante Madonna Con il 25 25 Madonna Ma ho capito Sto a 25 A inferno Non posso sapere La lore Del globo Umbral Base Ma ho capito Ogni momento Che un essere vivente Tascori in Umbral E intrinsecamente Contrario alla sua stessa natura E passo dopo passo Il terrore strisciante Che prova aumenta In un crescendo Terribile Inevitabile Bella barra Questa qua è L'armatura Vecchia e logora Delle antiche sentine consacrate L'assenza di spine malvagie Macchie di sangue E altri elementi Lugubi Testimonia che Questa armatura Risale ad un'epoca Più retta Nel lontano passato Delle sentinelle Eh giustamente Molte delle sentinelle Consacrate cadute Sono private Delle loro armature Perché ci sono sempre Corpi e cuori fedeli Pronti a indossarle Nel nome della giudice chierica Però vedete Là c'è scritto Cavalleria consacrata No non è la cavalleria Ripeto Questa è proprio Da sentinella E il giorno in cui Un credente viene accettato Nei ranghi dei cavalieri Della lama pura Questa si incide Di buon grado La carne E con il proprio sangue Traccia sulla sua uniforme Una croce sacra A testimonianza Della propria convinzione Per allontanare il peccato Dio Cristo Dovrei cominciare A toglierla Sta roba Dalla prossima volta Comincio a togliere Tutti gli oggetti Che abbiamo nell'inventario Così non devo stare A fare ogni volta Sta roba Le sorelle flagellate Considerano il dolore Un legame vitale Con il mondo E quindi con la divinità Della chierica E sono perciò Spietate Autoflagellatrici E autolaceratrici Madonna Ugualmente lieta Di avvolgersi Con mente Su cui sono scritte Le proprie preghiere E con lunghe funi Di metallo Flessibili e spinose Madonna Vi siete proprio evoluti In una direzione Molto ansiogena Continuo a dirlo 25 e 25 Raga Per poi Magari Vedermi scritto Là sotto Qualche citazione Di merda A qualche altro tizio Questo che cos'è Un anello macchia di sanco Del suo precedente proprietario Puoi lanciare magie radiosi Senza un catalizzatore radioso Ho ho Eh Questo In realtà Per fare delle robe interessanti E buono Infligge Dane da fuoco Avvizzimento aggiuntivi Madonna Comunque gli anelli Sono qualcosa di sgravato Va bene Andiamo a fare un attimo Quel test che avevo detto Perché il fatto è Dove posso utilizzarlo Una croce di legno Così Anche perché poi L'ho ottenuta in umbral È quella la cosa Che mi sconfiffera Sperando che non apriamo Qualche altra Zona infernale Come minimo Era di qua no? Però mi dispiace Veramente tanto Delle Delle piccole descrizioni Delle lore così Quello è un peccato Era qua dietro no? Però perché Effettivamente Dovrebbe aprire Sta roba No Il cancello Non si muove Tanto c'ha sopra Questo simbolo qua Del sangue In Atrix O come si chiama Forse devo consumarle tutte No Perché noi abbiamo trovato Qua davanti La schiena Scorticata Di quella persona È quella la cosa In realtà oggi Potremmo fare anche un episodio Un pelino più corto Così prossima volta Ci andiamo ad esplorare Per bene La città In fiamme Gestisco anche un po' meglio L'inventario e tutto quanto Però più andiamo avanti Veramente più mi intriga L'unico fatto È che c'ha questi Due tre problemini Tra la telecamera La cattiveria Ogni tanto con cui Sono messi i nemici E le descrizioni Che dopo un tot Sembra che te viano Per il culo Che tu fai Però comunque Rimane veramente Un gran gran gioco Rimane veramente Veramente Un gran gran gioco È molto divertente È molto più semplice È figa anche tutto La questione di giocosità Che puoi fare Con le varie build Con le varie cose Gli anelli Gli incantesi Miliarmi È molto molto figo Io per il resto ragazzoli Spero che questo Quinto episodio Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivervi Se siete nuovi Che danno sempre Una gigantesca mano al canale Inoltre Piccolo momento Come al solito Di spam personale Se volete supportarmi Nei miei contenuti E farmi un attimo Andare avanti In questo mio piccolo viaggio Su youtube E twitch Potete farlo benissimo In due modi Potete farlo nel Modo più diretto Usando il Vill di nero Facendo magari L'abbonamento Al mio canale twitch Che trovate In descrizione Facendo Una donazione O quant'altro Oppure se volete Supportarmi In modo indiretto Sotto in descrizione Trovate il mio link Da affiliato Hrk Essenzialmente Acquistando tramite Quel link Potete trovare un sacco Di giochi Software E compagnia Poco E potete anche Suppostarmi Indirettamente Nell'acquisto Inoltre trovate anche Tutte cose come Coffee Amazon E link Vari E compagnia E inoltre Mi trovate Ogni sera Da lunedì A venerdì In live Su twitch Dalle 22 in poi Che si porta Un sacco Un sacco Di robina Sempre differente Si stanno In allegria Nel chill Quindi se volete Passare a fare un saluto Siete più che benvenuti Belli Io vi ringrazio Per la visione Episodio Capisco un po' Più diverso Molto più Esplorativo Anche se sono successe Delle cose Molto interessanti Giustamente Area di intermezzo Però spero Che vi sia comunque Piaciuto Ci vediamo Alla prossima Ricordate sempre Corgi Gang Fa ben ben belli Alla prossima